Io sono Massimo Ramunni, sono il segretario di ATICELCA, associazione tecnica italiana cellulosa carta. I nostri soci sono i tecnici e gli esperti delle cartiere italiane e delle città fornitrici dell'industria cartaria. Il nostro scopo statutario come associazione è quella di creare un network tra gli esperti del settore, condividere conoscenze, organizzare eventi, seminari, diffondere la cultura cartaria. Le nostre attività si svolgono attraverso un congresso che organizziamo ogni anno a maggio e diversi eventi, seminari, inoltre siamo l'ente che pubblica libri, linee guida e altre documentazioni tecniche per il settore cartario, documentazione tecnica che viene usata nelle cartiere italiane e anche nelle scuole dell'industria cartaria. Con EcoStudio collaboriamo da tanti anni, EcoStudio è uno dei soci sostenitori dell'associazione e in particolare mette a disposizione le esperienze dei suoi esperti, dei suoi tecnici nei nostri comitati, nei nostri gruppi di lavoro per la produzione di documentazione tecnica o nella partecipazione ad eventi portando la loro esperienza.